Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzane e Aglio in direzione di Bologna. Prudenza inoltre per nebbia banchi tra Ronco Bilaccio e Aglio, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Regolare al momento il traffico sulla Firanzemare e Infipili. Per la canteristica Infipili relativamente ai lavori di via Quaglierini nel comune di Livorno, allo svincolo della superstrada, segnaliamo che è interdetto il transito a tutti i veicoli all'altezza dello svincolo, ovvero al chilometro zero della SP224 di Marina di Pisa. La chiusura si protrae fino a dicembre. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, informiamo che la biglietteria di Monte Cadini Terme e Monsummano chiude anticipatamente alle 13 fino a sabato 16 marzo. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!